ok grandi giochi per nintendo wii questa settimana abbiamo yamaha supercross gran gioco per wii graficamente come per wii? non è un nintendo 64 effettoni effettoni attenzione effetti volumetrici no è la potenza computazionale calcoli in virgola mobile così un po' sprecati gran gioco la nebbia in fondo praticamente è ambientato in lombardia soprattutto sei ambientato in lombardia guarda che modo che ho fatto questo è incredibile è un gioco wii e che altro bisogna sperare nei controlli guarda che traccia quindi di conseguenza sembra via lecciatoso la mattina quindi i controlli sono sicuramente fenomenali vediamo un po' no è riuscito ad andare fuori è il braccio della juve anziché accelerare con un'uncia che cosa si fa fantastico accelerare con questo fantastico questo freno perché per hardcore questo beh si è rotto mi hai capito le pile che cazzo è ma avessi il minuto italiano che c'è esce ma com'è ti fatti il minuto italiano non si capisce il cazzo ah voglio anche andare in ritro marcia facciamo anche le ritro marcia ah 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 cazzo è in 2d E' indietro Sto andando indietro, dagli tempo è un Wii Guarda che figata Aspetta, aspetta Aspetta, aspetta Possiamo che tutti apprezzati Che figata Lo faccio meglio io con MS Paint Vai, mi hanno doppiato Insomma, io ritornerei sul controllo Perché è veramente fenomenale Se potremmo fare qualsiasi cosa Tipo accelerare col nuncio Muoviamo il tipino col nuncio E acceleriamo con A E' espantato